buona domenica con i vostri messaggi il primo rivolto a rita che si è chiesto l'altro giorno ma botolo uncazzato che fino a fatto è lui puntuale ha risposto botolo uncazzato mette cercato io attorno ma si devo capì qualcosa con le spiegazioni dei zichichiri armango indeciso se mangia una miccia ho pigliato nel culo d'anciuco sei tornato più raffinato che mai davide grazie leonardo per chiare tondo grazie a voi che ci ascoltate voi numerosissimi tanti decinaia e decinaia cosa dico unità e unità ecco uno ci ascolta lui praticamente marco dice sulla rubrica di zichichiri ma che cazzo dei tortellino ha fatto per metterci dentro un cavallo marco kkk che potenza quando mandate queste scenette con jacopino mi fate morire da ridere e si vede che anche voi vi divertite da matti bellissime grazie dario jacopo serboli il muro di berlino fa giusto rima con jacopino indimenticabile riferito alla allo sketch della settimana scorsa luana mentre parla jacopino noto un grande interesse dolce dormir dai perché io dormivo sì luciana domenica speciale forte il nostro jacopo lucilla filmato della domenica gli spunti di jacopino splendido ragazzo luana leonardo tanti anni fa tu e allora tanti anni fa ora tanti anni fa tu hai fatto un'intervista sulle case chiuse a sulle case chiuse a sirio vanneschi non so se ti ricordi che cazzo a sirio non ti ricordi neanche quello che hai fatto ieri figuriamoci tanti anni fa capito questa è la voce della mia coscienza quella che senti nadia il muro di berlino grande jacopino lauretta ragioniere raggi indimenticabile io ho assistito a una diretta da monte san savino alla pecora nera e grazie alla vostra naturalezza ci siamo fatti un sacco di risate lucilla jacopo genuino ma leggero come la piuma bella questa rifinizione a che si è liberata in cielo grazie a te per queste belle parole vi ricordo che l'altro filmato della domenica è relativo sempre al ricordo di jacopo mario ancora su jacopo che forza più lo guardo e più mi fa ridere con i suoi modi gentili ma comicissimi comunque rita io ho notato che jacopo è proprio con noi è vero o no è con noi specialmente con gli sponsor che ci arrivano perché se non c'era lui non mi schiavi nanni grande jacopo domeniche fantastiche con i tuoi filmati samuele redazione chiaritondo grazie mille da voi tutti luciana leonardo sei un poeta metà poeta metà artista un vagabondo io faccio giorgio musta chi va bene simona franceschi sei davvero forte e te lo dice una gobbissima perché io sono simpatizzata per la fiorentina però se te sei gobba tanto che sei gobba arrivo io ok botolo incazzato l'altra ora basta ora te sei richiamato bevi meno che te confondi o leo mi sembra che col caffè rinfuso tu te sia un po confuso cioè lui capita raramente però quando capita guarda tutti i filmati monica parlamentari pdl occupano tribunale tutti con almeno un capo di imputazione sulla groppa infatti la bocassini pensavo che fossero venuti a costituirsi niente da fare a rettino fiero sta a vedere è cambiato ora presidente e ricominciano le discussioni sterili su non è cambiato il papa dell'arezzo s'uscirà mai da questo pantano c'è anche la località al pantano come si fa a uscire e russia anche questo era un pezzo che non lo sentivo papa subito se vuole il papa subito e se vuole uno dei nostri si chiamerà più steno secondo allo giancarlo tolgono il parcheggio alla cadorna cose da pazzi io lupo l'ho finito io stefano caserma cadorna sta città mi par sempre più merdosa e degradata però anche la rettini potrebbero andare anche un po più a piedi e in bici si chiarezza è comoda per la bicicletta carla altro che cadorna caserma disadorna monica parcheggio cadorna possibile che ad arezzo quando viene fatto qualcosa di buono ha sempre vita breve botolo incazzato un'altra volta stregone ma chi cazzo conosci così in alto da annunciare prima il nome del papa io lupo ma infatti non l'ho indovinato ho fatto un articolo perché uno studioso di camerino mi aveva dato una dritta ma tre nomi ma dato non c'era il papa francesco abbiamo il papa la quinta fumata è stata bianca ormai i copertoni della papa mobile l'avevano bruciati tutti è vero è in costruzione della papa mobile stanno cambiando perché il papa l'avete visto al giro con la passat ieri l'altro ma in realtà perché stanno facendo la papa mobile no perché ora ora dopo se ne parla debora tutto papa a dario buche 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 che ci frega se la viabilità rettina tempestata di buche noi ci sai bulevare certo può mettere rompe una gomma non vuole fare romperla in una buca dai su debora a tutto papa buongiorno leo devo dire che questo papa mi piace lo so probabilmente ci ha passato la notte perché buongiorno ma scusa dice buongiorno leo devo dire che questo papa mi piace vabbè mireno mireno scali qui faccio anche il cognome perché è un collega più del più del papa il papa è francesco e tu sei francesco franceschi sei di più bravo mireno condivido a rettino fiero e qui entra un ballo ora col papa i frati della verna dire la messa a roma venerdì mattina la nazione in cronaca pubblicò che il papa avrebbe chiamato i frati della verna per dire la sua prima messa di insediamento ufficiale e appunto la rettino scrive ho letto ora ora che il papa vuole che la prima messa da papa la serviranno a verbiare allora la servano i frati vuole che la prima la servano ganzo no forza rezzo che c'è tanto a cazzo col papa comunque allora mi sciazzo perché è importante il papa nell'insediarsi in vaticano avrebbe dato speriamo segni di umiltà dicendo che i tre sono i verbi camminare edificare e confessare allora qui bisogna fare chiarezza camminare verso la povertà penso io edificare ma poi pagallici perché ci avreste anche diversi arretrati confessare secondo me non noi ma i crimini di pedofilia di molti preti di questa chiesa oppure secondo me questo papa nuovo essendo argentino può anche avere pensato a una sorta di gioca giù e ve lo ricordate camminare papapara 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 edificare papapara papapara confessare papapara buona domenica